Bisogna aspettare l'inchiesta della magistratura per vedere cosa realmente è successo. Non tocca a me dire o fare delle previsioni. Se verranno scoperte delle prove e ci sono dei collegamenti tra chi deve accogliere e chi trasporta migranti e saranno poi i magistrati a decidere che sanzione infliggere eventuali responsabili. Mi pare troppo presto per fare commenti. Bisogna accertare la verità ma credo che la cosa più importante sia quella di aspettare le conclusioni dei lavori della magistratura e delle forze dell'ordine.